A Carrù, mattinata un po' prima di mezzogiorno, io mi ricordo che non avevo mai visto telefonini, in pratica diciamo un po' più grossi che i nostri cellulari. Allora ero con gli ufficiali, c'era un inglese, un maggiore inglese, lì è un sergente radiotelegrafista e mi dice, il maggiore mi fa, perché parlava proprio bene l'italiano il maggiore, infatti era un professore di lingua inglese a Firenze, dice vedrai che fra cinque minuti arrivano i famosi quadrimotori, farei lanci. State attenti, vediamo un po' dove vanno a finire i lanci, anche perché non vadano persi, no, diciamo, non vadano persi, magari in mano oltre il tanaro. Passato un quarto d'ora arrivano questi famosi aerei, cominciano a passare sull'altezza dei 300-400 metri e vediamo sotto questi apparecchi che si apre i portelloni. Un bel momento cominciamo a vedere, immaginiamoci a vedere i paracadutisti e questi aerei buttavano giù i paracadutisti. C'erano quattro apparecchi che si davano il cambio, facevano il giro finché avevano rifornimenti a bordo. Era per me un peccato non avere una macchina fotografica e fare un po' di proiezioni di queste cose, vedere tutti questi paracaduti, bianchi, rossi, verdi, gialli, ma una cosa io non avevo mai visto. E difatti sono rimasto persino impressionato a vedere, ma davvero, una cosa così. Difatti, fatto questo lancio, dopo pochi giorni siamo stati attaccati dai tedeschi, volevano ricoperare tutto, tutto questo materiale che avevano buttato gli americani. Ma che rumore facevano gli aeroplani così bassi? Era un rumore proprio che bisogna mettersi il cotone nelle orecchie. E noi avevamo quegli affari che ci davano gli ufficiali da mettersi nelle orecchie. Proprio quel rumore mi pare di sentire quando passavano tutti quegli aerei che andavano a bombardare in Germania. Insomma, proprio un rumore così, ma un rumore forte. E loro arrivavano lì e aprivano a vedere quei portelloni aprirsi e quei paracaduti a scendere. E hai detto che era intorno a mezzogiorno. E verso le undici e mezza, mezzogiorno, così. Ci ridici l'ora e più o meno il giorno, il periodo? Più o meno l'ora e il periodo, il mese? Il mese era il 12 novembre. E il mese era il 13 novembre. Grazie.